Vi spettacoli ora dopo l'appuntamento con la prima delle due tappe regionali della Session Cubana World Tour al No Borders Music Festival di Tarvisio. Zucchero Fornacciari ha proseguito ieri la sua invasione musicale caraibica nel programmato concerto di Villa Manin di Passariano. Era il concert for life, ovvero musica e solidarietà, una serata a sostegno delle attività di Auxilia, la ONLUS impegnata in attività di cooperazione internazionale a favore in particolare degli ex bambini soldato. Il cantautore e musicista emiliano ha voluto dedicare il concerto alla causa di Auxilia coinvolgendo gli oltre 7 mila presenti. Zucchero Fornacciari ha proposto tutti i brani del suo nuovo show, la Session Cubana. Sul palco è stato accompagnato da 16 musicisti, 11 dei quali cubani. Un colpo di cannone e una pioggia di coriandoli ha salutato la fine del concert for life 2013 che rinnova il suo appuntamento alla prossima estate.